La battaglia tra Italia e Cina per il controllo di Club Med prosegue e il titolo quotato alla Borsa di Parigi segna un netto rialzo. Andrea Bonomi ha alzato l'offerta a 23 euro per azione per il gruppo proprietario di una settantina di villaggi e vacanza nel mondo, 1 euro sopra i 22 offerti da Fosun. L'imprenditore italiano ha anche acquistato 2,1 milioni di titoli salendo al 15,9% del capitale del gruppo francese. Ora si attende la reazione della controllata del miliardario cinese Guo Guangchang che controlla il 18,3% di Club Med.